La partita è stata sicuramente molto intensa, siamo partiti forti, i primi 45 minuti sicuramente abbiamo fatto molto bene, anche il mister ce l'ha detto a fine primo tempo che non ci aveva mai visto giocare così bene, gli spazi c'erano, abbiamo giocato, sapevamo che su qualche ripartenza potevamo subire, purtroppo in un'azione un po' casuale abbiamo preso il gol e da lì siamo calati e loro sono venuti fuori, poi l'espulsione, poi la stanchezza e il caldo, quindi rimaniamo delusi perché volevamo concludere la stagione alla grande, peccato ma questo è un campanino d'allarme anche per l'anno prossimo perché a ogni minima disattenzione si può subire gol. Qual è stata la differenza tra il Perugia del primo tempo e il Perugia del secondo tempo? Personalmente sapevamo che la Ternana nei secondi tempi veniva fuori meglio, però non credo che ci sia stato un grosso cambiamento, abbiamo continuato a fare la nostra partita, purtroppo comunque non siamo riusciti a finalizzare, quando non finalizzi purtroppo ci sta che ti facciano gol. Come agli altri chiedo anche a te un commento sulla stagione del Perugia. È stata una stagione sofferente dove ci siamo tolti un bel peso vincendo il campionato e riportando il Perugia dove merita di stare, poi soprattutto per noi che l'anno scorso siamo retrocessi è comunque una soddisfazione doppia perché ci abbiamo creduto in questo campionato, in questa società riportandola in B, quindi siamo contenti e dall'anno prossimo bisognerà dare di più perché il livello è alto. Una Serie B appunto che si prospetta di grande qualità? Certo, magari rispetto all'anno scorso sarà ancora più difficile perché le squadre sono ancora più forti, quindi bisognerà lavorare già da quest'estate a casa e poi quando ci si troverà di nuovo a luglio assieme bisognerà partire alla grande perché bisogna cercare subito di fare dei buoni risultati per metterci in una situazione tranquilla. Come agli altri chiedo anche a te qual è stato l'episodio più bello di quest'annata? Personalmente il gol al Padova mi ha dato una bella soddisfazione, poi di gruppo comunque l'averci creduto quando eravamo a meno sei punti e averla ribaltata è stata la cosa più bella. Vole un'altra è stata la tua un'altra che è stata la tua un'altra che è stata la tua un'altra che,